Benvenuti, ben tornati su MyFootball Jersey! Questo è l'haway jersey della Benfica per la prossima settimana e questa è la versione di giocatore. Mi piace, ma voglio sapere nei commenti cosa pensate? Grazie per la visione! Non è la mia preferita, non è la mia preferita, ma è davvero bello! Non è la mia preferita, ma è molto bella! Il costo, come puoi vedere, è lato, come sempre lo dico... ma bisogna giudicare per te! Il porto è fantastico, ho ricevuto il jersey in 18 giorni! Mi sapete cosa pensate? Mi sapete se ti piace il canale e che jersey vorrei vedere in futuro! Per oggi è tutto! Per oggi è tutto! Ma prima di salutarvi, prima di dire goodbye, subito al canale, è davvero importante! Per oggi è tutto! Ciao! 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 Ciao!